Noemi, dove hai fatto la spesa? Ho acquistato un po' di cuccioli dal Quercosuper! Ciao Dani! Ciao ma... Vedo che anche tu hai fatto degli acquisti nell'alba di Vigargo! Sì, ho preso una bella cucciola! Bella trucchia! Ciao! Ciao Antonio, ma hai fatto la spesa? Sì, ho fatto la spesa! E che hai comprato, Anto? Eh, ho preso un bel cucciolo! Un bel cucciolo di Pitbull! Antonio, sia onesto! Cosa c'è nel carrello? Io ho preso un po' tutto! Sai che cos'è? La cucciola è affezionata alla proprietaria! Come si fa a separarli? Vende pressione! Poi non c'è problema! Mia moglie è una donna fuori, diciamo, dalle solite sarde! Non è gelosa! Di larghe vedute! Amore mio, ti saluto! Ciao! Ci vediamo in tribunale! Ciao! Ciao Dani! Ciao Marti! Ho fatto la spesa? Sì! Cosa hai fatto anche tu di cucciola? No, sono andata a recuperarmi babbo! Dove volevi andare, Monellino? Eh, senza di me! Dove volevi andare? Da nessuna parte, figurati! Ma quando mi lascio? Mai!